Arriva al nostro microfono il tecnico del Città di Anagni, Manolo Liberati, al quale facciamo subito i complimenti per la prestazione del Città di Anagni. Arrivato al Partegno Lombardi, l'ultimo in classifica, ma un atteggiamento tutt'altro che rinunciatario e un primo tempo in cui avete anche legittimato il vantaggio. La ringrazio per i complimenti, forse è la prima volta dove ci fanno i complimenti e raccogliamo veramente qualcosa, perché anche nelle altre tre partite precedenti credo che abbiamo tenuto testa a tutte le altre squadre, però abbiamo raccolto veramente poco. Io credo che meritiamo qualcosa in più dal punto di vista dei punti. Oggi invece ci siamo presi questo punto, secondo me che poteva, se ragioniamo dalla nostra parte, penso di dire che sia un po' stretto perché abbiamo avuto le occasioni per poter chiudere la partita, non ci siamo riusciti e abbiamo preso un gol sull'ingenuità quando eravamo tutti gli errori della palla. E questo dispiace, però il punto qui a Avellino ci sta. Prima della partita ci avremmo messo la firma tutti e poi è venuta un'ottima gara da parte dei ragazzi e quindi sono molto soddisfatto. Anagni è accorto con un 3-5-2 molto solido. Abbiamo evidenziato la capacità della sua squadra di giocare palla a terra, che non è una cosa così scontata. In Serie D lo stiamo imparando in queste prime giornate dell'Avellino. E poi nella ripresa anche con Mestiere e con tre ammunizioni per perdita di tempo, ma fa anche parte del gioco, anche se il pubblico si è un po' spazientito. Parto dalla prima domanda. Noi abbiamo 3-5-2. A me non piace parlare di moduli, a me piace parlare di spazi. Abbiamo cercato di coprire tutti gli spazi in fase difensiva, ci siamo riusciti. Abbiamo cercato di attaccare gli spazi che ci lasciava l'Avellino, in parte ci siamo riusciti. E quindi diciamo che anche nelle altre partite abbiamo fatto la stessa cosa, però purtroppo la sorte e le ingenuità ci hanno penalizzato. Per quanto riguarda le ammunizioni, ma ci sta. Perché poi io non so se era una cosa voluta dai miei ragazzi. Dico solo che secondo me tre partite in otto giorni e sette turni infrasettimali sono veramente tanti. Io credo che l'Avellino anche dal punto di vista fisico ha pagato come abbiamo pagato noi. A differenza dell'Avellino però noi abbiamo una rosa un pochino più ristretta rispetto all'Avellino. Quindi abbiamo giocato sempre con gli stessi calciatori in queste tre partite. E negli ultimi dieci minuti abbiamo pagato, purtroppo. Giusto anche evidenziare il Tour de Force con tantissime partite a stretto giro di posta. Volevo chiederle però adesso, a prescindere dal risultato che è comunque importante per il suo Anagni, l'emozione di giocare al Partenio Lombardi. È una domanda non retorica perché abbiamo visto i suoi ragazzi prima della partita davvero scattarsi anche delle foto, gli venivano scattate da qualcuno dello staff. È un'emozione speciale essere qui sul campo di una squadra che fino a qualche mese fa era in altri palcoscenici. Io credo che per questi ragazzi che si affacciano per la prima volta ad un calcio che conta credo che sia una soddisfazione giocare in uno stadio storico come quello dell'Avellino. Però ecco, in campo hanno dimostrato che i selfie l'hanno fatto rimettere la partita e quando ha affischiato l'arbitro si sono dimenticato di tutto e hanno cominciato a giocare e l'hanno fatto bene. Gli faccio i complimenti. Un'ultimissima domanda al mister, poi una da studio e lo liberiamo. Volevo chiederle invece, tornando all'Avellino, se lo immaginava così partire forte in campionato già primo in classifica e così in difficoltà per oggi, soprattutto nel primo tempo. Io me lo immaginavo che partisse così forte perché ha giocatori di altra categoria, insomma ecco non sto qui a dire chi sono, però me lo immaginavo così in difficoltà. Io ripeto sempre, tre partite negli otto giorni sono veramente tante e l'Avellino poi è partito in ritardo, quindi anche dal punto di vista fisico noi siamo partiti il 20 luglio, l'Avellino è partito un mese dopo, ci sta anche quel calo. Però io credo che l'Avellino in questo campionato sia la favorita numero uno perché insomma lo dicono i numeri, lo dicono anche la rosa a disposizione. Mister, le passo l'auricolare, eccoci qui con le domande rassolute di Angelo Giuliani e gli chiedo un attimo di indossarlo, di farlo calzare. Prego, prego Angelo. Sì, buonasera, buonasera mister Liberati, innanzitutto complimenti in sede di commento. Ho detto come Lanagni abbia assolutamente meritato questo pareggio e come in più di un'occasione nel primo tempo abbia sfiorato anche il 2-0. Complimenti a Di Giovanni per questo gran gol e per la grande partita disputata. Mi proietto già al futuro, da Laziale a Laziale. Mi dà una valutazione sul Cassino secondo in classifica con il Monterosi che sarà il prossimo avversario dell'Avellino? Beh, il Cassino è in linea con le squadre che, intanto buonasera a tutti, il Cassino è in linea con le squadre attrezzate per la vittoria finale. Ha giocatori importanti, soprattutto nel reparto offensivo. Però io dico che in questa categoria i valori sono veramente minimi e le partite si decidono sugli episodi. E noi col Cassino abbiamo pagato due episodi e abbiamo perso la partita. Quindi diciamo che è un campionato duro, avvincente, sarà sicuramente duro avvincente. Però ecco, l'Avellino come Rosa rispetto al Cassino nel complesso credo che sia superiore. Grazie.